100 farfalla ragazze, 6 serie previste, i blocchi in 2, Veronica Casarini in 3, Iris Valerio in 4 Alessandra Bruni, in 5 Elisa Turco, 6 Anna Bozzini e in 7 Federica Ardita noi in acqua con la prima serie dei 100 farfalla, esordienti a maschi, miglior tempo di iscrizione Mattia Vianello, miglior passaggio Filippo Biasin 30 e 0 3, proprio Vianello in seconda posizione 30 e 22 e poi Lorenzetto in terza posizione 32 e 23, miglior tempo al momento 1 0 7 e 37, nuotato da Omar Comin con Vianello in quarta corsia, Biasin in quinta corsia, prova ad andarsene via Biasin, già vincitore dei 400 stile libero, si impone anche nella farfalla, 1 0 4 e 0 6, Filippo Biasin, Mattia Vianello 1 0 5 e 0 3 e per la terza posizione c'è Omar Comin che aveva in precedenza nuotato 1 1 0 5 e per la terza posizione c'è Omar Comin che aveva in precedenza nuotato da